In questa zona nel bacino della Valdichiana Retina ad esempio abbandonare accanto a un cassonetto uno stendino a un costo di circa 12 euro. L'abbandono di rifiuti attorno ai cassonetti determina il fatto che quel cassonetto non può essere svuotato nella maggior parte dei casi oppure determina il fatto che quel cassonetto viene svuotato in una maniera non ideale e quindi si può danneggiare, può cadere, si può rompere e si generano tutta un'altra serie di costi e tutto ciò va poi a ricadere in bolletta. Quattro fototrappole che saranno itineranti e due ispettori ambientali. Questo è il nuovo servizio che sarà attivo a breve nel comune di Foiano della Chiana per educare i cittadini ad una giusta raccolta differenziata e soprattutto per evitare l'abbandono di rifiuti. L'ispettore ambientale verificherà settimanalmente i video che le fototrappole consentiranno di acquisire. Se ci sono comportamenti sbagliati verranno segnalati alla Polizia Municipale per le proprie competenze. Se non è passato il mezzo che doveva svuotare il cassonetto verrà segnalato. Questo è un modo per ottimizzare e per rendere più utile nei confronti del cittadino che, ripeto, è vittima più che artefice di questi comportamenti. Con questo nuovo progetto, con gli ispettori ambientali e con le fototrappole, vogliamo continuare questo percorso che ha iniziato già dal 2014, ci ha portato a una diminuzione di abbandono di rifiuti importanti e quindi vogliamo che questo continui. Una cosa che manca al nostro comune è un centro di raccolta che finalmente sta partendo, o meglio, sta finendo perché era già partito poi ci sono state delle problematiche inerenti all'azienda e quindi entro il 2018 avremo anche un centro di raccolta attivo che servirà non solo Fogliano ma anche Marciano e Lucignano. Ed una corretta raccolta differenziata e gestione dei rifiuti diventa fondamentale per il funzionamento dell'impianto di San Zeno. L'impianto di San Zeno è un impianto integrato in R1, quindi è una centrale di recupero che opera sul libero mercato. Cosa vuol dire questo? Che l'impianto di San Zeno, più i cittadini di questa zona fanno una corretta raccolta differenziata più ha la possibilità di servire un numero maggiore di cittadini con quegli spazi liberati appunto dalla raccolta differenziata. Tra l'altro l'impianto di San Zeno è un recuperatore di materia, quindi lavora tutta la frazione organica raccolta in maniera differenziata e produce compost. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un impianto in R1 di questo tipo qui, si chiamano impianti integrati, hanno assolutamente bisogno che nei territori serviti vengano fatte raccolte differenziate di qualità. È essenziale questo.